In quattro giorni i volontari di Scientology partiti alla volta della Croazia hanno consegnato gli aiuti umanitari destinati alle popolazioni colpite dal terremoto, portati a 32 famiglie residenti nella zona collinare boschiva della regione Sisak-Moslavina, beni di prima necessità. Con il loro furgone giallo e un camion di protezione civile della comunità torinese, in coordinazione con l'associazione Sancroet ONG, centro per lo sviluppo comunitario, le autorità di Govzod e Glina hanno consegnato alle famiglie residenti nei container delle zone rurali più difficili da servire i beni di cui ancora necessitavano. Hanno dato anche supporto all'associazione locale per la consegna di borse alimentari. L'attività ha l'obiettivo di creare una situazione più vivibile per le famiglie. Nel frattempo sono stati iniziati i lavori di demolizione e ricostruzione delle abitazioni in zona.